Siamo a Campo Felice! No, Happy Field! Ciao da Happy Field! Siamo a Happy Field vicino a Astrid! Guarda che giornata! Che brutto tempo! Siamo dispersi qui in questo posto, giro, giro ancora! Lontano chilometri dal primo centro abitato, alla ricerca della sopravvivenza. Saludate a casa! Che brutta giornata! Tocca soffrire la vita! Che sofferenza! Andiamo, boys! No, 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 no! Ciao, ragazzi! Ciao, ragazzi! Ciao! Ciao, ragazzi! un cappettino ok o bombardino alla granja un po' di ghiaccio e sapete che faccio io ho detto video frigo ecco saluti a tutti fabrizio pietro sergio per luigi e io niente un po' e possiamo andare vai partiamo velocemente stesso giro? non siamo che immaginarti vai maestro sergio vai andate io per l'ultimo un po' e 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no, c'è un Bip automatico. C'è un T9 particolare, diciamo. No, no, c'è un T9 particolare. No, no, c'è un T9 particolare. C'è un T9 particolare.